Signora Silvana del negozio Dorelan di Piazza Caneva Milano. Adesso lei, signora Silvana, mi spiega una volta per tutte cosa c'è dentro un materasso di qualità come quello della Dorelan, però io sono molto curiosa. Di che cosa si tratta? Questi materiali cosa sono? Allora questo è il Myform Memory, il Myform che è un brevetto di Dorelan. In questo caso abbiamo due diverse tipologie di Myform Memory perché Dorelan produce sia la densità media che l'alta densità e quindi a secondo del materasso che andiamo a vedere possiamo trovare Myform Memory o Myform Memory HD. Per esempio questo strato giallino? Allora in questo caso abbiamo uno strato di Myform Clima, il Myform Memory e Myform Memory Clima, questi due strati, il Myform Extension che è quello che mi dà più rigidità al prodotto e il Myform Air che è quello del lato estivo. Quindi diverse tipologie sempre di Myform, sempre di un brevetto di Dorelan che combinate mi danno il comfort ideale. Ci sono un sacco di negozi che vendono sistemi letto ma per riconoscere la qualità come faccio? Da cosa capisco che un materasso è veramente di qualità? Un prodotto di qualità innanzitutto ha determinate certificazioni di qualità, nel senso che non tutti i prodotti sono uguali. In questo caso Dorelan abbiamo due diverse tipologie di Myform, che il Myform è il brevetto di Dorelan, il brevetto certificato quindi con tutta una serie di certificazioni tant'è che è anche dispositivo medico e ogni modello poi ha la sua sezione, chiamiamolo così, dove abbiamo diverse tipologie di Myform, in questo caso il Clima, il Myform HD, il Myform Extension, il Myform Air, che combinate danno il giusto sostegno e la giusta ergonomia. Esiste uno spessore minimo per un materasso? Dorelan partiamo dai 20-21 cm minimo, nel senso che l'altezza per arrivare a un 30 cm di materasso, l'altezza è sinonimo di qualità, quindi un prodotto troppo basso sicuramente non è un prodotto particolarmente confortevole. Grazie.